Quali le garanzie che offre un coach certificato? Anzianità di servizio? Ore lavorate? Se noi pensiamo alle ore che sono richieste a livello di svolgimento della professione per un coach ACC, per un coach PCC o per un coach MCC, noi possiamo vedere tranquillamente una progressione di esperienza, una progressione di lavoro che viene sempre mantenuto e supervisionato attraverso standard etici, attraverso competenze che sono quelle chiave e base di ICF. Quindi sicuramente quelle che sono le garanzie di un coach certificato sono formazione, educazione continua, erogazione del servizio, quindi fattivamente una professionalità agita e continua crescita all'interno delle competenze chiave univocamente riconosciute a livello internazionale e nazionale di ICF. Quindi anche una garanzia di prestazione di qualità per il cliente.